Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le vite dedicate alla cultura in Italia e oggi il nostro appuntamento è particolarmente speciale perché la personalità che è invitata a questa chiacchierata è venuta a Bolzano dopo una lunghissima carriera dedicata in gran parte e un buona parte alla cultura pur portando un'importante divisa parliamo appunto di un generale dei Carabinieri che è Roberto Riccardi che è noto anche come scrittore che a lungo si è occupato anche di attività editoriale all'interno di una importante istituzione così importante per la nazione come l'Arma dei Carabinieri e per un periodo abbastanza lungo ha anche diretto il nucleo dei Carabinieri che si dedica alla tutela del nostro patrimonio culturale. Proprio quando anch'io stavo a Roma e noi ci siamo conosciuti lì e oggi invece appunto dopo questa vita così piena di cultura nonostante una divisa così importante oggi comanda la legione Carabinieri Trentino Alto Adige e quindi è come un nostro concittadino da qualche mese direi quindi benvenuto noi ci diamo del tu perché eravamo appunto colleghi o quasi insomma al ministero per me è stata una grande gioia e credo per tutta la cittadinanza di questa provincia un grande onore averti qui adesso come generale dei Carabinieri ma qui parliamo della tua vita e del tuo rapporto con la cultura e quindi la domanda con cui comincio sempre è come è stato il tuo incontro con il lavoro degli artisti, con lo scrivere o con l'arte nella tua gioventù? Nella mia nascita quel grande lancio di dadi che c'è la spiegazione, la mamma insegnante di lettere oggi in pensione che fin da quando ero piccolo mi ha fatto leggere, mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto assistere all'opera mi ha portato al cinema, al teatro e quindi è un amore che non si è mai fermato, non si è mai interrotto In che parte d'Italia sei stato giovane? Io ero a Bari all'epoca quindi c'era il teatro Petruzzelli per l'opera c'erano poi contatti con la cultura meridionale, nazionale, internazionale c'era una scuola di quelle all'antica per cui il latino, il greco, poi il liceo classico e quindi i primi passi con questa grande... Però portando questa divisa così importante nell'arma si entra da giovani Tu hai fatto l'annunziatella, quindi insomma proprio l'adolescenza e sei riuscito a tenere questo amore per la cultura perché ormai sei notissimo come scrittore e quindi questo secondo passaggio come avviene nello scrivere mentre porti una divisa? Io porto questa divisa per colpa di un libro perché fra i tanti romanzi messi sul comodino dalla mamma c'è stato a un certo punto il giorno della civetta il capitano Bellodi in Sicilia contro la mafia mi ha entusiasmato ha iniziato ad interessarmi anche a questo mondo e così ho maturato l'idea di entrare nei carabinieri, di combattere la mafia e di andare a Palermo, è stata proprio la mia prima sede di servizio su mia richiesta Caspita, caspita Ma nel frattempo anche l'amore per la scrittura, per la lettura All'annunziatella già avevo fondato un giornale che si chiamava Il Due Pizzi il copricapo tipico della scuola Beh, i libri che hai pubblicato sono decine e sono tutti, quasi tutti legati all'arma e a situazioni che qui perché il nostro generale è su Wikipedia quindi io sto leggendo che su Wikipedia dicono che insomma c'è molta biografia nei tuoi libri di cui alcuni ho avuto la fortuna di vedere ma in questo percorso da scrittore e per prepararti a questo percorso da scrittore ricordi delle personalità, degli incontri che hanno segnato la tua formazione che poi è un modo così per raccontare ai lettori di altre persone Sì, io ho scritto romanzi gialli con protagonisti dell'arma ho scritto saggi sulla storia dei carabinieri ma l'incontro determinante è completamente diverso è quello con un sopravvissuto ad Auschwitz Alberto Sed, un ebreo romano che ho conosciuto ottantenne il primo libro è stata la sua biografia mi sono rivolto a un editore specializzato che è la Giuntina di Firenze è nato questo testo biografico sono stato un numero il numero che Alberto aveva ad Auschwitz e poi da lì si è aperto il vaso di Pandora ho continuato con i gialli con altri saggi sono tornato anche sulla Shoah sulla Shoah in più occasioni e poi si sono arrivato a pubblicare con Einaudi, con Mondadori, con Rissoli noi dobbiamo essere molto orgogliosi di avere da una parte una tutela dell'ordine della sicurezza pubblica così preparato ma anche una mente così aperta e piena di questa ricchezza culturale del nostro paese che si comincia con lo scrivere poi appunto mi dicevi che tu hai seguito anche attività editoriale all'interno dell'Arma e poi soprattutto questi anni a Roma accanto al Collegio Romano in questo palazzetto bellissimo che c'è a Piazza di Pietra hai seguito la tutela del patrimonio perché noi siamo una delle poche nazioni che hanno una fetta del militare la più gloriosa parte del nostro esercito quella che tutti i cittadini hanno vicino che si occupa come degli angeli custodi della tutela del patrimonio che riporta nella nazione o ai legittimi proprietari le opere rubate insomma di queste due cose dell'attività editoriale e dei tuoi anni a Piazza di Pietra ci vuoi raccontare qualcosa e anche della tutela così certo binari paralleli l'attività investigativa e la passione per la cultura per cui ho portato le mie esperienze professionali nei libri e nell'attività per la tutela del patrimonio culturale e viceversa potrei dire all'ente editoriale dirigevo la rivista istituzionale il Carabiniere e varavo i prodotti editoriali fra i quali c'è il calendario storico famosissimo calendario oggetto di collezionismo ho fondato un premio letterario che si è chiamato Carabinieri in giallo aveva la pubblicazione nel giallo Mondadori e alla tutela del patrimonio culturale ho fatto recuperi e poi organizzazione di un settore molto bello nel quale si organizzano mostre si preparano eventi internazionali e soprattutto c'è questa attività per riportare a casa i tesori prodotti dalla nostra civiltà nei secoli ecco, i nostri telespettatori probabilmente fanno fatica a comprendere al meglio la parola recupero che processo è? che cosa significa? puoi raccontarci qualche esempio o qualche recupero importante che ti ha visto protagonista nel tuo periodo? ci sono tante vie per recuperare i beni culturali dipende anche dagli ambiti per l'archeologia si tratta di beni che sono stati oggetto di scavi clandestini di esportazioni illecite e quindi spesso li scopriamo quando affiorano sul mercato oppure anche nelle collezioni private a volte pubbliche e lì c'è una rivendica bisogna dimostrare l'origine e la provenienza dall'Italia spesso c'è accanto all'attività investigativa pura anche una diplomazia culturale altrettanto importante poi ci sono i furti di beni quindi c'è l'indagine tradizionale ma ogni indagine porta a viaggiare nel tempo e nello spazio perché i beni vanno ovunque nel mondo ovunque ci sia un mercato e poi bisogna ricostruire gli artisti la storia dell'arte c'è il tema dei falsi che è importantissimo oggi molto attuale con l'arte contemporanea si lucra moltissimo riproducendo con tecniche anche strumenti del nostro tempo certo e ci sono tante storie che potrei raccontare ogni tanto voi fate delle mostre ricognitive dove mostrate tutto quello che avete recuperato in un certo periodo insomma sono mostre che sono state anche al Quirinale molto importanti insomma qualche recupero che ci vuoi ricordare qualche oggetto che ti viene in mente di quegli anni lì allora il giorno prima di assumere l'incarico a Bolzano ero a Roma al Museo dell'Arte Salvata una mia creatura che è quello che era il planetario nell'aula Ottagon nel complesso delle terme di Diocleziano in Piazza Repubblica con il Ministro della Cultura a presentare il ritorno del gruppo scultorio in terracotta più importante che abbiamo adesso finalmente in Italia cioè Orfeo Le Sirene riportato dal Ghetti di Los Angeles dopo una lunga battaglia giudiziaria non solo qualche giorno prima ero a Los Angeles proprio a imballare personalmente con i miei collaboratori con un procuratore americano che ci ha collaborato con i colleghi dello HSI questa meraviglia assoluta Beh beh, deve essere una vita interessante cioè poter seguire tante attività culturali così e anche essere protagonista di una rielaborazione attraverso lo scrivere che è un modo per essere anche un artista insomma, avere questo respiro alto e poi sei finito qui a Bolzano che è un luogo con tre culture molto particolare come ti trovi in questo particolare posto dell'Italia come nuovo incarico Beh, è affascinante proprio questo incontro di culture fra le culture non ci può essere scontro ci può essere solo incontro quindi la cultura è un ponte laddove il conflitto è un muro è di grande interesse per me capire e conoscere la storia di questo territorio capire le motivazioni profonde dei sentimenti diffusi che ci sono immedesimarvi in tutti i punti di vista quindi questo insegna la cultura per questo è un valore universale e trasversale rispetto a qualunque tipo di lavoro e ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro qualunque cosa facciamo quindi l'approccio culturale ai problemi ai problemi di ordine pubblico di sicurezza pubblica ai problemi che possono nascere da conflitti antichi non sopiti del tutto in questo l'apporto della conoscenza la curiosità madre della conoscenza la conoscenza madre dell'incontro ma questo è il motivo per cui ci tenevo a questa chiacchierata con invitarti qui perché credo che sia sapere che insomma una persona che è stata in questi incarichi così importanti è qui a Bolzano in Via Druso che è il luogo dove ha lavorato mio padre per tanti anni quindi io sono molto legato all'arma dei carabinieri anche per vicenda storica biografica è una grande soddisfazione e immagino che starai pensando al prossimo libro chissà se Bolzano ti lascerà il tempo di scrivere però prima o poi magari questa terra ti sarà di ispirazione ce lo aspettiamo un altro libro di Roberto Riccardi? Il tempo lo dovrò trovare sono venuto apposta qui con il computer vuoto e la mente altrettanto perché volevo che le idee nascessero qui e sicuramente sarà così perché così sempre è stato finora Bene, io ti ringrazio davvero di questa disponibilità per questa chiacchierata su te stesso sulla tua storia culturale e quindi ringrazio ancora una volta e siamo contenti come cittadini di avere un rappresentante della sicurezza e dell'arma dei carabinieri così aperto nella sua esperienza culturale nella sua lunghissima attività anche a tutela del patrimonio culturale della nazione spero che Bolzano sia per lui interessante aspettiamo questo prossimo libro e con questa attesa saluto tutti i telespettatori e vi do appuntamento ad un prossimo incontro a a Grazie a tutti.